Assessore Lari, parliamo del cantiere della pista Zengarini, un cantiere composito che comporta la ristrutturazione della tribuna, degli spogliatoi della pista e anche dell'apparato indoor che costituisce una nuova giunta a questo complesso dell'atletica leggera. Che punto è la situazione? Il cantiere è diviso in due cluster, in due blocchi progettuali. Uno prevede il rifacimento e l'efficientamento energetico della tribuna insieme al rifacimento della pista di atletica. Il secondo invece prevede la realizzazione di questa pista indoor. Questo cantiere è nato con dei vizi legati un pochino all'aumento dei prezzi e legato anche a uno stato di fatto totalmente differente dallo stato di progetto. Quindi per quanto riguarda la parte relativa alla gradinata e alla pista abbiamo dovuto fare una perizia di variante che è già al vaglio del Ministero dello Sport che deve appunto avallare questa variante per permetterci di continuare i lavori. Perché? Perché quando abbiamo iniziato appunto il cantiere si è trovato uno stato della tribuna veramente non idoneo alla prosecuzione dei lavori per cui è stato necessario un lavoro integrativo per quanto riguarda la parte strutturale e quindi la sistemazione dei pilastri, la sistemazione proprio della struttura in senso fisico. Quindi tutta la parte legata appunto alla questione energetica come il cappotto, come l'impermeabilizzazione della gradinata stessa, la realizzazione dei bagni e la realizzazione degli spogliatoi così come da progetto non rientravano più nel quadro economico. A fronte di queste spese abbiamo quindi dovuto fare una variante progettuale che ci permettesse di dire al Ministero non faremo tutte queste lavorazioni ma ne faremo solo alcune perché dobbiamo rientrare necessariamente nel quadro economico e quindi anche per poter così fare così facendo possiamo anche continuare i lavori sulla pista. Ci teniamo a precisare che purtroppo questi vizi di forma sono stati dettati dalla velocità con la quale abbiamo ereditato un progetto probabilmente troppo veloce nel senso che è stato messo su terra in modo magari poco approfondito, forse legato anche qui alla questione elettorale precedente e quindi ci sono veramente delle forti perplessità di chiudere quel cantiere. Di sicuro non entro l'anno, abbiamo già parlato anche con l'azienda affidataria e l'associazione affidataria della struttura, purtroppo non riusciremo a dargliela entro l'anno, sicuramente si arriverà a primavera dell'anno prossimo. Però anche qui dovremo rifinanziare gran parte degli importi e poi vedremo quali sono. Il secondo cluster, la seconda parte invece è quella della realizzazione dell'indoor, anche qui si è scelto una strategia progettuale, se vogliamo anche politica che non ci rappresenta, ovvero quella di dire facciamo qualcosa perché poi troveremo i soldi per finirla. Perché quello che è stato appaltato è semplicemente la realizzazione dello scatolone di cemento armato con dentro la pista, però non era stato previsto, è cosa veramente strana, l'impianto elettrico, l'impianto fognario, la realizzazione della linea vita sul tetto, il fotovoltaico, le finestre. Quindi di fatto è stato approntato un cantiere sapendo già che sarebbe stato un'incompiuta. Quindi per quanto riguarda la realizzazione dell'indoor serviranno circa un milione di euro per finire i lavori. Questi sono purtroppo numeri che cadono sull'amministrazione comunale che noi stiamo cercando in modo veramente attivo di rifinanziare attraverso canali ministeriali perché abbiamo anche qui la spada di Damocle del PNRR, cioè la rendicontazione di tutti i lavori al 2026. In Soldoni quel cantiere purtroppo è nato male, sta procedendo con grande sforzo degli uffici per cercare di mettere delle pezze, però veramente ci sarà tanto lavoro da fare per riuscire a rendicontare tutto entro il 2026 e soprattutto trovare i fondi necessari che prima non erano stati minimamente ipotizzati per poter finire quelle opere. Grazie. 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 Grazie.